Torna a crescere, seppur di poco, la curva dei contagi in provincia di Cremona, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 18 nuovi casi di Covid positivi, per un totale complessivo che sale a 6.273 due i morti. Il primo caso stimato di coronavirus nell'area di Cremona è del 31 gennaio di Capodanno, addirittura il primo lombardo, è quanto emerge da uno studio intitolato The Early Phase of the Covid-19 Outbreak in Lombardy, Italy, a firma di 24 studiosi. Si stima dunque che il 20 febbraio, data del primo caso accertato quello di Codogno, circa 1.200 persone accusassero già i sintomi da infezione da coronavirus. È entrato nella farmacia di Porta Romana dando in escandescenze e ha devastato il locale. È successo nel tardo pomeriggio di ieri. Gli agenti della volante sono riusciti a fermare il ragazzo, un italiano di 20 anni, in possesso di un coltello e a caricarlo sull'auto di pattuglia. Il giovane che soffre di problemi psichiatrici è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato per accertamenti. Nessuno è rimasto ferito.